Un doppio appuntamento che da un lato ci richiama il valore della Green Station come elemento nazionale di sfida anche di recupero delle stazioni dismesse e della valorizzazione delle stazioni impresenziate, lo storico accordo lega ambiente e rete ferroviaria italiana, dall'altro qui dentro la stazione centrale di Pescara si arricchisce la Green Station con un punto informativo per le aree parco, per il turismo natura e con un centro sulla micromobilità elettrica e sul bike sharing, un elemento aggiuntivo che rafforza il nostro rapporto e la strutturazione anche dei nostri servizi all'interno della stazione di Pescara. Quest'anno il treno verde ha un impatto importante sul tema della mobilità sostenibile, in effetti in queste tre giorni affronteremo sia i temi della qualità dell'aria e faremo anche un punto soprattutto sulle attività delle città capoluogo che si stanno adoperando sulle strategie della mobilità sostenibile, elemento fondamentale per combattere anche l'abbassamento della qualità dell'aria, sconfiggere l'inquinamento e regalare ai cittadini una qualità della vita più sostenibile. Direttore, qual è l'importanza di questo accordo che si rinnova anche oggi con lega ambiente? Siamo innanzitutto in coerenza con il piano d'impresa, RFI è entusiasta di appoggiare e sostenere iniziative che vanno nella direzione della mobilità integrata e sostenibile. Oggi stiamo dando uno spazio non funzionale all'esercizio, all'eca ambiente e crediamo molto in questa iniziativa. La rete ferrovia italiana crede molto anche nella qualità dell'ambiente, anche questo il senso di questo accordo? Assolutamente sì, il treno è un trasporto ecosostenibile così come l'interscambio con mezzi di trasporto fuori dalla stazione, biciclette, green station e quant'altro.